Governo fatto. Nello Musumeci ha la sua squadra. Il presidente della regione siciliana, proclamato 11 giorni fa in corte d'appello a Palermo, ha trovato i nomi. Manca solo l'ufficializzazione che potrebbe arrivare a ore dopo la firma dei decreti di nomina dei 12 assessori, tra cui due donne. Domani Musumeci dovrebbe riunire la giunta con tanto di deleghe che sarà presentata alla stampa. Questa la composizione del Governo Musumeci. Gaetano Armao, avvocato, docente universitario, delega vicepresidenza ed economia. Edgardo Bandiera, Forza Italia, agronomo, delega agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. Salvatore Cordaro, popolare e autonomisti, avvocato, delega territorio e ambiente. Marco Falcone, Forza Italia, avvocato, delega infrastruttura e mobilità. Vincenzo Figuccia, Udc, dottore in scienze politiche, delega energie e servizi di pubblica utilità. Bernadette Grasso, Forza Italia, avvocato, delega autonomie locali e funzione pubblica. Mariella Ippolito, popolare e autonomisti, farmacista, presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Caltanissetta, presidente provinciale di Federfarma, delega famiglia, politiche sociali e lavoro. Roberto Lagalla, idea Sicilia, docente universitario, delega istruzione e formazione professionale. Sandro Pappalardo, fratelli d'Italia, noi con Salvini, dottore in scienze politiche, tenente colonnello dell'esercito, vicepresidente del COCER, consiglio centrale di rappresentanza militare, delega turismo, sport e spettacolo. Ruggero Razza, diventerà bellissima, avvocato penalista, delega la salute. Vittorio Sgarbi, indipendente, dottore in filosofia, critico d'arte, delega beni culturali, identità siciliana. Girolamo Turano, Udc, avvocato, delega attività produttive. Nessun esponente per la Lega e conseguenti malumori. Il partito di Salvini aveva chiesto un riconoscimento per il risultato elettorale, ma alla fine nel governo è entrato Sandro Pappalardo, esponente di Fratelli d'Italia. Il partito della Meloni, con cui noi con Salvini aveva fatto lista comune alle regionali, superando lo sbarramento del 5% che ha permesso l'elezione all'assemblea dell'eghista Tony Rizzotto, il parlamentare andrà ora al gruppo misto.